Allora, prima di andare avanti con le varie considerazioni, riepiloghiamo un po' quello che abbiamo fatto nella video-lezione dell'esperimento per ripassare quello che è il famoso ciclo sperimentale che abbiamo visto all'inizio delle video-lezioni di fisica. Qui ho tolto l'attrezzatura, ma c'era l'esperimento. Prima ancora dell'esperimento c'era l'osservazione e l'ipotesi. L'osservazione è quella che è banale che un elastico si allunga se gli metto dei pesi, ovviamente. L'ipotesi è che ci sia un allungamento proporzionale, ipotesi. Dopodiché c'è l'esperimento, la misura, i dati raccolti, i dati grezzi presi dall'apparecchio e dalle misure che si potevano fare e lavorati, perché di solito non sono mai già pronti per l'uso i dati così come si prendono. Dopodiché si fa un bel grafico e si vede finemente che, a parte scarti vari, dovuti effetti di vario genere, c'è una proporzionalità, da cui legge fisica, in questo caso la legge di Hooke, che è esprimibile con una formula che, dalla geometria analitica, è la formula di una retta. Se in posto di f ci metto y, se in posto di k ci metto m il coefficiente angolare, y è uguale a mx, è una retta passante per il centro, per l'origine, no? Notare che nell'esperimento che avevamo fatto all'inizio delle video lezioni di fisica per introdurre appunto questa storia del ciclo sperimentale, ci si era imbattuti in una situazione non prevista, nel senso che nell'ipotesi che il periodo fosse proporzionale alla massa che appendevo, si vedeva una curva che non era proprio una linea retta, una curva che andava su dritto così e poi si piegava. Quindi in quel caso lì la legge non è immediata, bisogna rielaborare i dati e vedere se si tratta di una potenza di x o cos'altro. In questo caso ci è andata bene, è uno dei casi semplici in cui c'è la linearità, proporzionalità e quindi legge di Hooke. Sulla legge di Hooke conviene fare una precisazione, però prima di andare avanti. Perché cosa succede? Nella situazione dell'esperimento noi abbiamo la nostra massa m, la quale, la massa m, sapete, ha la forza peso, P grande uguale ad m per g. Questa forza peso allunga l'elastico. L'elastico però, la forza che lui esercita è mica verso il basso, l'elastico esercita una tensione, questa forza F qua è una tensione, che trattiene il peso. Alla fine il peso si ferma in una posizione di equilibrio e la forza che, diciamo, sviluppa l'elastico è uguale e contraria alla forza peso, per cui l'oggetto sta poi in equilibrio. Capite che, siccome lo spostamento, la X, la X, l'abbiamo considerata nel senso dell'allungamento, per comodità, per non andare a numeri negativi, cioè la cosa si allunga e mette una X che aumenta, capite che la forza è in realtà, la forza elastica, non la forza peso, la forza peso è nella direzione della X, ma la forza elastica che stiamo studiando, di cui c'è un'equazione, eccetera, eccetera, è in realtà nel verso opposto. Quindi la legge di Hooke in realtà ha una versione vettoriale, cioè che considera il verso, non solo la quantità, perché la quantità va bene così. La versione vettoriale dice che la F vettore nella forza elastica, mettiamo pure a pedice ELA, potremmo metterla anche qui, la forza elastica non è uguale a K per X, X lo segniamo vettore, perché anche lì c'è il suo verso da tenere presente, ma c'è un bel meno che segna in rosso davanti. In diversi libri di testo, in effetti alla fine viene precisato che c'è questo meno. La vera legge di Hooke, la legge di Hooke vera, quella più semplice non sta a vedere i segni, ti mostra soltanto la proporzionalità, una legge di Hooke, diciamo, più accurata, ti tiene conto di questo meno. Ok? Dopodiché, dopo, un'ultima cosa da vedere sulla legge di Hooke è questa ben detta costante K. La costante K che, vi ho detto, la situazione, adesso vediamo il caso senza il segno meno che facciamo prima, la situazione, la nostra F, la nostra X è la retta che rappresenta la legge di Hooke. Ecco, se io guardo la retta come Y uguale MX, che è la retta in geometria analitica passante per l'origine, chiaramente la F sarebbe la Y, la X è già chiamata X, M, il coefficiente angolare, sarebbe la nostra K e sapete che la M è il rapporto fra il delta Y e il delta X quando c'è una retta che rimane sempre costante, non importa quanto li prendo grandi, il rapporto fra quanto sono salito e lo spostamento orizzontale che ho fatto. Ora, io posso pre... Ecco, cosa succede? Che nel nostro caso, vabbè, basta portare di là, allora immaginate qui abbiamo F uguale KX portiamo di là la X e viene F fratto X fratto X quindi la costante si ottiene prendendo una qualsiasi delle forze sulla retta e il coefficiente valore della X per esempio facciamo il nostro caso io prendo il valore quando era 160 no 1600 millinewton di di forza e mi pare 110 millimetri di delta L quindi nel nostro caso abbiamo all'incirca abbiamo detto 1600 millinewton fratto 110 millimetri questo sarebbe il valore di K tra l'altro i milli si possono togliere e si fa 1600 fratto 1614 110 che è circa 15 adesso non diventiamo matti a vedere tante cifre se ne vede a dire un po' occhio croce è 14 e mezzo 15 15 che cosa? newton fratto metro allora la costanza elastica si misura in newton per metro nel nostro caso specifico nel nostro esempio è circa 15 newton per metro vuol dire che quello elastico a parte che se lo lugo di un metro si spacca prima però la idealmente si allungherebbe di un metro sviluppando 15 newton di forza cioè un chilo e mezzo vuol dire se ci appendo un chilo e mezzo va giù di un metro in realtà si spacca comunque la cosa funziona anche se non gli faccio fare un metro se gli faccio fare un millimetro ho 15 millinewton ok? non credo di avere altro da dire quindi ricordiamoci costante elastica questa k si chiama costante elastica con unità di misura newton per metro odm due punti newton fratto metro notare tanto prima di chiudere che io ho preso un elastico a lunghezza mozzo se io faccio lo stesso sperimento a n volte con lunghezze diverse sempre dello stesso tipo di elastico ma con lunghezze diverse di partenza quindi prendo 20 centimetri di elastico prendo un metro prendo due metri questa costante elastica cambia cioè l'esperimento viene simile con tutta la retta e tutto quanto però la costante elastica con un risultato cambia ed è logico se tu prendi un elastico molto lungo si allunga più facilmente se ne prendi uno di 10 centimetri non è che si allunga chissà quanto oppone più resistenza a una forza di richiamo più forte in proporzione ok Grazie.